che quella donna mi aveva fatto subire e col giorno Andrea Adelaide ha montato una trappola perfetta e io ci sono caduta come una stupida. Devo dire che è stata molto brava nel preparare un piano così elaborato e sai perché ci sono caduta così? Perché ormai, perché ormai non ce la facevo più Andrea, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso non soffrivo soltanto io ma anche Lauro. Adelaide era, era demoniaca, una lupa che proteggeva il figlio doveva essere suo Andrea, doveva essere suo e di nessun altro. Ora calmati dai. Che sta succedendo qui eh? Niente, è solo che tua moglie non si sente bene, vero Rosa? Sì, non capisco, ero venuta per vedere Cinzia e improvvisamente ho avuto un calo di pressione, è stato questo. Vuoi tornare a casa? Beh io credo che sia meglio fare così sai, sì credo sia meglio per davvero. Bene, io potrei...